Silenzio elettorale scattato dalla mezzanotte. Domani i Veneti sono chiamati al voto, oltre che per esprimersi sui cinque quesiti referendari sulla giustizia, per rinnovare il sindaco di 86 comuni. In corsa oltre 200 candidati alla poltrona di primo cittadino e un esercito di candidati consiglieri. Alle urne per le amministrative 996.511 elettori. Grande incognita ancora una volta l'affluenza al voto. Un solo giorno a disposizione per recarsi ai seggi, quello di domani, domenica, dalle 7 alle 23. A urne chiuse si procederà con lo spoglio delle schede referendarie. Solo l'indomani, lunedì, a partire dalle 14, inizierà la conta delle preferenze per l'elezione dei primi cittadini. In 17 degli 86 comuni al voto un solo candidato in corsa. Conterà quindi il quorum necessario superare il 40% degli aventi diritto per evitare il commissariamento del municipio. Gli occhi sono puntati sui capoluoghi dove la sfida è molto più combattuta anche a livello numerico. Padova che legge il nuovo sindaco nel giorno della festa di Sant'Antonio con ben nove sfidanti, Verona con sei e Belluno con tre. Se nessuno dei contendenti supererà il primo turno, la metà più uno dei consensi, bisognerà ricorrere al secondo turno, fissato per il 26 giugno. Al ballottaggio, trattandosi di centri con più di 15.000 residenti, rischiano di andare anche Feltre, Iesolo, Marcon, Mira, Mirano, Santa Maria di Sala, Abanoterme, Vigonza, Tiene e Cerea. Più piccola, ma non certo per fama, Cortina d'Ampezzo, con la nuova amministrazione che sarà quella che accompagnerà la città all'appuntamento tra quattro anni con le Olimpiadi. Più piccola, con la nuova amministrazione che sarà la città all'appuntamento tra quattro anni con le Olimpiadi.